Fibra ottica amplificata e questa è la chiamata col cellulare disposto alla stessa distanza, vicino e lontano dalla fibra ottica, così è sulla verticale, così è la fibra ottica, così è vicino alla fibra ottica e così è lontano dalla fibra ottica, così è vicino alla fibra ottica e così è distante dalla fibra ottica, così è senza luce nella fibra ottica, alla stessa distanza di prima. Grazie. 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 Grazie.